Salve a tutti, sono Maria Zappelli Cardarelli, sono una produttrice di olio biologico e siamo a Trevi, in Umbria. In questo periodo siamo impegnati nelle operazioni di potatura. Per l'oliveto è un'operazione molto importante perché consente di rinnovare le piante e di prepararle al meglio al momento della fioritura che sarà poi alla fine di maggio. In questi ultimi anni ci siamo dedicati molto alla ricerca e allo studio della produzione biologica e abbiamo visto che la pianta, se viene coltivata, riesce a catturare nelle foglie, nel tronco e nella radice una quantità enorme di anidrite carbonica. Quindi il prodotto che noi facciamo è un prodotto che è buono per noi, per l'organismo, ma anche per l'ambiente. E allora io vi invito ad assaggiare questo meraviglioso prodotto in Umbria.